... 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 Si inizia, vediamo un po' Anche ora Oh, interessante La regina Pappapagna Ma perchè è sempre l'ultimo Perchè Ah, sono me a bannare Allora Allora L'emotico L' primo Allora Vediamo un po' Tutta la rete strada Tutti a prendere le cose, le Origa non può fare il tank in solo Non è nessuno che fa il coso, va bene Vabbè che curatore c'aveva Ciao Nico Allora che combini Nicolino? Quando è che entri dentro per farti una bella partitona? Giovanna, Neoric, Silvana se c'è due cose Vediamo cosa decide Curatore ce l'abbiamo già Rhaegar Giovanna Sì, vabbè, poi Ah, è bellissimo Nico, a proposito, te che te ne intendi Vedi nei miei video, no? Nel mio video vedrai che c'è l'ultimo video che ho fatto, a parte questo che è iniziato adesso Vedrai che c'è Nell'ultima parte del video, quello che ho fatto, l'ultima partita che ho fatto Vedrai che io ho esperienza, ho vinto la partita e mi hanno decurtato l'esperienza Di Lega È bello perché ce l'ho scritto anche C'è scritto anche il video dove c'è scritto che mi hanno decurtato praticamente l'esperienza C'ho 200 in meno praticamente Infatti se lo vedi anche adesso che sei collegato ero di più di esperienza Non sto scherzando, guardalo, l'ho fatto proprio L'ho fatto apposta, cioè nel senso mi hanno decurtato e vincendo la partita E vabbè così Adesso vorrei sapere se posso fare un reclamo e dirgli ma scusate ma tra l'altro c'ho anche il video Quindi non è anche da dire A farci un reclamo e vedere un momentino se almeno mi ridano l'esperienza che mi hanno tolto Almeno mi ritorno a quanto ero Beh nel senso Comunque quando loghi Nico Allora se qua si iniziasse 111-112 Vabbè con calma e sangue freddo si inizia Dopo cena? Ok Allora facciamo un po' di Lega Cioè di Lega un po' di partita Tanto la Lega faccio questa Speriamo bene perché sennò Non è possibile che devo andare sempre più sotto Speriamo bene Speriamo bene Speriamo bene Speriamo bene Decidetevi Nel senso Fatevi nella ragione Decidete Entrate io devo fare anche un'altra cosa la lega non ci sta a due anni di più che balle 7 con calma tranquilli dormiamoci e non si entra e non si entra non si entra più dilettanti allo sbaraglio è da vedere è da vedere non lo so esattamente perché è carino è da vedere un ventino è molto stunner quindi la cosa mi potrebbe anche interessare poi può darsi che sia una schifezza totale però all'inizio sarà grossissimo fortissimo immensissimo allora ok te invece Nico non penso perché te è un support semmai è Marco che lo compra ma te sarà dura cromi bandita vabbè non sono io no sono io ma cos'è quello di prima beh la solita vabbè cromi se ne va tra i coglioni e fa anche rimo speciali cioè qua manco manco hanno interpretato che ci fossero bisogno di tank va bene riusci a vedere la mia live grande Nico ti abbracerei ma sei troppo distante e mi si vorrebbe delle abbracce molto lunghe nooo un altro russolo io cioè nel senso questi qui questi qui cioè ci siamo va bene prenderei anche un tank ma non so che tank questo reale ha bisogno di me sì ma poi il problema ma perché devo fare partite così quasi quasi prendo Garo che cosa c'è cazzo ti dico solo una cosa hai visto che gente che c'è poi dici perché qualsiasi cosa lo prendevo io me ne sbattevo il cazzo tanto è una partita è l'unico che posso prendere non lo so l'avevo detto io che facevo un doppio tank lo sapevo lo sapevo io che facevo un doppio tank ho levato diabolo ma non lo potevo levare neanche Titacan adesso mi devono spiegare che cazzo serve Valera io lo spero che mettono un tanketto però basta che non sia c'è un tank forte un po' come Titacan come Diablo e via dicendo c'è qualcosa di pesante anche come Johan infatti l'abbiamo fatto ieri Sonya single tank abbiamo perso la partita anche perché tank se ne ha preso la strada se ne è andato via cioè era lei sola quindi no no ma comunque lui lei cosa è andata a fare praticamente è andata a farsi la linea tranquilla e ci ha lasciata a noi in mezzo alla brata vabbè comunque è così ci faccio era da doppio tank non mi ricordo chi cazzo ha preso comunque la seconda partita è nelle cos'è la fare o sfaia la boscaia no quel cazzo comunque è così è più un assassino Sonya che un tank ed è tra l'assassino e il tank quindi vabbè partite nel cazzo ieri infatti mi sono incazzato come una iena ma c'è un per tanto non serve a niente incazzarsi però quello che mi è girato veramente è la fine della serata porca puttana faccio l'ultima partita vinta cazzo vado ancora di sotto ancora di più e che cacchio vedo un momentino se ci riesco a mandarle un ticket e dirgli ma scusate ma io la partita l'ho vinta perché mi avete levato decurtato comunque mi sa che fa più male il variant che Sonya più o meno la battaglia comincia fra dieci secondi quindi dobbiamo restare cinque quattro tre due uno se la battaglia cominci io adesso beccherò di quello slip dalla madonna sicuro come loro lo sapevo almeno prendete le cose no medivit mi sa che lo sa usare bene neanche mi sa che cosa che lo sa usare bene non posso fare un cazzo ale 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 sono tutte da distanza eh ho sbagliato attivate gli altari e il potere del drago sarà vostro minchia ho rischiato di morire male capito che prende le linee prende le madonna e tiraglia non c'è un cazzo di cosa intanto Nazibo muore cosa serve un Nazibo cosa serve un Nazibo non si sa le canzoni le faccio male veramente bravo bravo io non posso stare in linea se non c'è un cazzo di persona che mi cura ma vaffanculo nazico doro in cenere cominciamo bene vaffanculo no non sapevo io tanto lei si può fare la linea tranquillamente ma porca troia stasera vieni dietro vieni dietro bravo ok bravo nessuno che dà mani anche i piedi per cui guarda dove vado te lo dico tra 5 secondi dove vado Marco e Marco c'è senza catene e lui lo sa quanto siamo? 2 a 2 strano siamo 2 a 2 non sono morti parte una ziba merda le torri le torri vieni 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 adesso sono tutti vieni 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 mi serve una zebo che finisca la quest se l'ha presa se no son cazzi amare si è 34 grande nazi grande nazi ma vaffanculo Sonia ma vaffanculo 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 iscriviti al canale Cura Cocane porco Ciao Marco Cocane porco Me metto vent'anni a farli Ma si ma con i sermoni forti Buttiamoli giù Cocane han preso tutto coi porci Cazzo No 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 Ma ci fanno anche sopra Che riprendono anche il danno Ma siete veramente idioti Merda Ci muoio Ci muoio per dei coglioni Manco preso Manco preso Bravo No 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 Alla prossima ma vaffanculo, maledeti mongoli, maledeti porci come loro coccane a a 48 un 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 il un Sì Sì, non lo so, non lo so vedete i porsi come cazzo ci fa a fare un... ma cazzo si 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 ba fa no 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 a oppure le forse si 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 asi si 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 Ah, un'altra, 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 un'altra. Non trovo io. Ehm, andate, se non è vero, ma ora è un'altra, un'altra. Venti! no no non 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 ah non 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 mi non 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 che cazzo Anzo. Anzo Valera. Valera ma perché ha preso Valera quella cogliona merdosa di un coso? Testa di cazzo. Non vaffanculo eh. Meglio che cambio gioco. Ho evitato lo schifo di Mord. Non vaffanculo. Non vaffanculo. Come? Oh. non ha finito è andata per un affanculo figli di troia oh shiii Che merda Che merda che è diventato Sì Vito ci sono Ah scusa Ah ma no Grazie a tutti. 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 Ci guardi sul mio profilo di Twitch se puoi abbonarti o meno? Eccola. Grazie a tutti gli obiettivi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tanto puoi puoi entrare sul mio canale Twitch. così così almeno in automatico ti aggiungo in automatico ti aggiungo dall'altra parte. Esatto. grande, 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 hai scaricato l'app, Sì, io ho scaricato anche l'app Perché No, no, no Devi scaricare solo la cosa di Twitch Nel momento che ti scarichi Nei regali, ti regala dei giochi Non so se te ne sei accorto E ti riscarichi e sono dei giochi Che ti ci puoi giocare tranquillo Però non so che dei giochi ti piacciono Sì, ma aspetta Ti sto dicendo Per Però aspetta Prima finisci di mangiare Sperando che il pacchetto sia accorto E dopo mi spieghi Allora, intanto ti cerco Perché Dicevo l'app la trovi qui direttamente su Twitch Sì, sì Sul cosa di Twitch c'è scritto app Che chiamo? Aspetta, te lo dico subito Però non ci sei in cosa Allora Nell'affare di Twitch Vedrai che c'è scritto Da qualche parte Aspetta Che lo cerca anch'io Forse era qua Api per desktop Che io non la vedo più Perché logicamente No, no Appi per desktop? Esatto Application tish per desktop Downloader e te la scarichi E quella ti serve Quella ti serve Ma quella è l'app che c'è anche sul telefono Esatto Però sul desktop ti scarichi i giochi Direttamente quelli che ti regala Quando ci sono sulla coroncina Ricompense Prime Ad esempio Io ti sto chiedendo un'altra cosa Ti sto chiedendo Eh Ti ho chiesto Come funziona il discorso Per scaricare l'applicazione Per quando ti fanno le sub Le sub Non so cosa siano Io adesso a te Ti ho fatto una subscribe Ah Le subscrizioni Va cagare No Quello lì lo fai Automaticamente Dal sito web Di Twitch Perché dal sito web Non c'è bisogno dell'app L'app ti serve Se vuoi andare in giro Per i canali A vedere gli altri Tra l'altro Una cosa interessante Se vai sul mio canale C'è scritto Redemption Che l'abbiamo fatto me e Vitto Anzi Se metti anche un link a Vitto Ti scrivo Il Allora Aspetta Te lo scrivo qua Malac 225 80 Dove ripesso Perché io qua vedo Estensioni Devo andare Vero? Estensioni Sono quelle che metti Nel tuo canale Praticamente Le estensioni Servono Allora Tanto Facciamo una cosa Vai un momentino Nel mio Nel mio canale Di Twitch Ti faccio vedere Una cosa Quello che ho scritto E tutto il resto Così almeno Ti aggiorni E tanto Ti trovo Anche a te Allora Che tra l'altro Non ci sei Come non ci sono Allora Aspetta Solo sul tuo Cosa Sì Stavo cercando Un'altra cosa Aspetta Un momentino No Stavo cercando Su Twitch Se ti trovavo Invece Non ti trovo Canali Perchè non hai messo Neanche un'immagine Di sottofondo No Ancora non l'ho messo Allora Mettici intanto Un'immagine Che è una Immagine stupida Quello che ti pare Poi Allora Tanto fammi Entrare nel mio canale Non è nella mia Dashboard È questa qua Allora Vedrai Che nel tuo Canale C'è scritto Modifica Riquadri Aspetta Ci guarda Un secondo Allora Tanto Ci metto Segui Ma io C'era già Il tuo affare Di segui Ah Te l'avevo già fatto Te l'avevo già fatto Ah ok Hai tre follower Sì Garconda C'è Quindi devi chiedere Cometa C'è Perfetto E Devi chiedere A Marco A Nicola E gli altri Ok Nicola e Marco Entrano dopo Te lo dico già Allora Ritorniamo Indietro Allora Allora Favo una cosa Per un po' Perfetto Modifica Riquadri Se te vedi Modifica Riquadri Nella mia dashboard Sì Nel tuo Nel tuo canale Nella dashboard È un'altra cosa È quello che entra Dentro al tuo canale Che è E come faccio Ad andare sul mio canale Fai Tasto destro Dove c'è scritto Dragon 7 Fai tasto C'è scritto Canale Videoproducer E Downloader E dashboard Scusami Vai canale Vedrai che c'è Non ci sono post Se noti Ok Adesso Avrai un tasto Modifica Riquadri Nel modifica Riquadri Metti Metti ad esempio Informazioni Chi sei te Come ho messo io Mi chiamo Claudio E via così C'ho questi canali qua C'ho queste E ci metti Le tue informazioni Che ci vuoi lasciare Ok Fai una bella cosa Ti cerchi su google Immagini carine All'immagine Già ce l'ho da mettere Ok Ci metti anche il donate E fai ad esempio Donate Donate Non è mai richiesto Obbligatorio Fai copia e colla Di quello che ho fatto io Poi se mai te la modifichi Poi Quando richiudi i riquadri Nel momento in cui Richiudi i riquadri Ti metti a posto le cose Aspetta Ti sento Ti sento Ti sento Matteo Tu mi senti Matteo 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 Che cazzo No Vabbè Sono quei Ti sento Ti sento Tu non ho Potenzione Ma Te sento Questa volta Per favore Per favore Per favore Per favore Allora Poi ci devi mettere In immagini Di offline Perché nero E sta veramente male Allora Le immagini Di offline Non ce le ho Adesso Ne trovo Ma Trovo un'immagine E poi Tanto che Tanto che Lei me la fa Ci mette un'immagine Ci metti un'immagine Allora Fammi trovare un attimo un'immagine Facciamo una cosa per voi Poi mettici Due belle tette fuori Che fanno sempre al coro Sono Io l'ho detto Se voleva fare più fastidio Ok Non ce le ho Facciamo una cosa per favore Non ce le ho Facciamo una cosa per favore Ma non ce le ho Facciamo una cosa per favore Adesso Adesso Allora Ascolti un secondo Darko Eh dimmi Allora Dicevo Come faccio a modificare lo sfondo Allora Per modificare No io intanto ti facevo modificare Ok Funziona Va bene Grande Ti facevo modificare la dashboard Allora No Lo sblocchi solo quando vai in pari Chiudi Chiudi la La line Sennò è un casino Non lo so Ma non ce l'ho io Se l'ho caduta Tutti gli obiettivi Dove cazzo c'è l'ha aperta No Che tutti Se tutti gli obiettivi col cavolo Sei te allora È vero Sono io Eh Sei te Visto Infatti io non riuscivo a capire Perché c'era L'ho aperta Va bene Dai Lascia perdere Ti dicevo Per la modifica Chiudi un riquadro Il testo Immagine Esatto Allora Ci metti il testo Oppure Se non ci vuoi mettere il testo E vuoi che l'immagine sia prioritaria E quindi Se ci metti già informazioni È inutile che ci metti il testo Ci metti l'immagine Che hai scritto già informazioni Una bella immagine colorata Che hai scritto info Ma questo è per quando sono offline No no Sei sempre così Il tuo canale viene almeno La parte superiore È il video che parte La parte sottostante Sono le informazioni Il donate La musica Quello che cazzo ci vuoi mettere All'interno del tuo canale Capito E quello rimane sempre Compreso che sei online Che sei offline Tutte e due Io l'immagine l'ho già messa Non so se la vedi No Perché finché non fai Modifica di quadro Lo riporti nella posizione Diciamo grigia Non si vedrà mai Capito? No Io ti sto parlando Dell'immagine del profilo La vedi? Allora L'immagine del profilo Per me L'hai lasciata uguale A meno che non c'è Ricarica pagina Vediamo Sì Ok Adesso c'è Ok Ok Adesso vai sotto Quello che ti ho detto Modifica di quadri Modifica di quadri Tutto il riquadro? Allora Il titolo del riquadro Non ce lo devi mettere Se ci metti l'immagine Se ci metti l'immagine Già quello è il titolo Che sarebbe la cosa più bella Ok Poi sotto ci metti la descrizione Ad esempio Informazioni Ci scrivi Matteo Sono Mi piace giocare A FIFA A LOL A Eros E ho sempre Avuto questa predisposizione Cazzate tu Fai copia e incolla Di qualcun altro E decidi te No 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 Allora Lo faccio Però tanto Vedi un momentino Come viene Come compare Tanto non c'hai tanti follower Quindi puoi fare un po' di mastruzzi Li puoi fare adesso Che non sei seguito Da molte persone Ok L'immagine dove la metto Cioè Dove c'è l'immagine Dove c'è l'immagine Dove ti dice Carica l'immagine E te ci metti L'immagine che deve essere caricata E l'immagine però A me perché non me la fa Non me la fa mettere Oh Aggiungi immagine Dove c'è scritto Aggiungi immagine Ah ok Ok Allora Questo Ok Ok E vedi come ti viene Nella file Poi le modifiche Tanto quei riquadri lì Sono spostabili Quindi li puoi modificare Come cazzo ti pare a te E già ci metti ad esempio L'informazione tue Poi Io ci metterai sempre il donate Perché fa sempre comodo Allora Però il donate Per il momento Vabbè Vabbè È un po' un casino Perché dovresti usare Paypal Dovresti Vabbè C'è da vedere un po' Paypal Lì lo vediamo in seguito Lo facciamo insieme In seguito Ti spiego molto per bene Le cose Allora Intanto faccio una breve descrizione Sì esatto Fai una breve descrizione Poi se vai sul mio canale C'è anche Si chiama Refeorum L'ho scoperto da poco Me l'ha consigliato Vitto Serve praticamente Tutti quelli che ti guardano Te guadagni dei punti Che puoi convertire in euro Ok Che quello è interessante Perché Aspetta no Ridimmelo Perché sto acquisendo Troppe informazioni Ok Non c'è problema La Mary Ti spiega tutto Perché lei Acquisisce il triplo D'informazione Che acquisisce te Io non ci sto capendo più un cazzo Vabbè Io spiega a lei Lei spiega a te Così almeno Non ci capiamo più un cazzo dopo Lei ti sente Lei non ti sente Mi hai fatto levare Metti le cuffie Ma mi dà fastidio un cazzo Io gli do fastidio Non è capitato Ma che cosa vuoi? Ma c'è Senti ragazzi È bellissima Ma che cosa vuoi? Chi mi ha detto? No nulla Lui lo spiega a te E lo spiega a me Ah Non mi fanno nulla Io vi vorrei conoscere solo Per farmi due ghini Veramente Sono uno spettacolo Non me lo spiega a me Non mi so Cos'è? Cosa che vuoi? Ma cosa che vuoi? Io non ci si è Per dargli un masco che vuoi? Mi hanno detto in casa Cos'è? Come vuoi? Come vuoi? 重要 no Io non mi ricordo Cos'è? Esatto Che vuoi? Sotto Non mi ha detto? Ho! Noi, noi... Ho! Voi scremi, stai bene. Noi, non ho vedi. Noi, non ho... Cacco! Dai, le persone non lo posso sfruttare, sono geloso! Dai che cazzo dici, siamo online! No, 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 no! Vaffanculo, la vedevo, la primavera e pensi che sta così stupendo! Vabbè! Cacco! E' vero meglio! Si! Ma non so che si vede lì qua! No, mi si vedeva! Allora si! Fatelo appunto! Dimmi se è online o no! Sì eh! Come le registrazioni in corso? Eh, sì eh! Dai! Mi sembra così da bufalo! Si! Dai! E' vero! Ti sei scritto! Ho visto in capitola! Si! Mate è finito! Aspetta! Dami un secondo! Stai morendo da ridere, ho capito! E' stato distratto! Gacco! Gacco! Eh, ma eri! Si! Ma non è dire che è online! Certo che è online! Non lo vedi nell'affare? No, non lo vedi! Ma ti sei messo anche la videocamera! Eh, sei messo davanti a rivelare! No, non lo vedi! Ma con le tette nude fuori! Ma dai Marco! Matteo! Non fagli fare! E' sbagliato! Sto scemo! Ho fatto uno scherzo di cattivissimo gusto! Che è così! Spesso mi sa l'avevi queste rove! E' un altro mio papà! Quasi vuoi essere online! Chi sentite? Così lo aggiungi ai miei milioni di persone in gioco! Dovamo andare! Adesso! Ah! Oh ma che senti perché appena avuto in giro che stava sentendo qui? Perché guardo ascoltare la musica di Dio e di Dio La musica di Dio e di Dio Chia di Dio No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Yeah. , grazie a tutti. a tutti. a tutti. , a tutti. a tutti. , grazie a tutti. 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 , , , tutti. , 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 ,, , ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,, ,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, no 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 me l'aveva già chiesto Claudio un milione e mezzo di volte infatti visto che non è che gli fa male non li uccidono lo so ma non so non ho voglia di registrarmi di fare una registrazione in fiume ma ti ho detto te lo fai su facebook ma l'ho fatto su facebook Claudio ma non mi va non funziona una miglia grande roba qua ci muoiono la cazzo no ho sbagliato eh sta bloccando per un giorno un po' bene perchè ti sei tolto la what the fuck 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 do ho 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 esmenti ma che gruppo avete ragazzi, che gruppo avete? due due, siamo in due ah siete in due gruppi? c'è Nicola che è basso 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 è un nano di me ma non mi sembra, mi sembra che è un metro e tattacinque Nicola, 1,40 davvero? ho 1,90, non mi ricordo se era 1,90 quando sei alto? spiegatevi un attimo che vado a sentire la fine della storia di Spartaco ma che c'è che non va bene? che c'è? oh, sleva, sta facendo il cavolo è bello aiutiamo a fare le specificate c'è amore spiegami qual è il problema aspetta aspetta perchè ti ha allevato questo? c'è bisogno di fare una tragedia ma perché non la direi storia? quanto cosa stai facendo? ma perché non la direi storia? ma perché non la direi storia? e che non la direi storia? la direi storia ci devo giocare meglio devi giocare meglio? devo rimparare Sonia mi ha rotto il cazzo ogni volta che c'ho contro perdo mi diceva a me che devo impararla ma te la usi in te scusi, hai capito? ma io non c'è nessuno oh esatto ma perchè? ma come faccio aperto? ma perchè? non c'è due senza tre ma che diavolo ma che problemi c'ha guarda le azioni di gare ma che è il tuo igu insomma non puoi dire che lui c'è una bomba che si fa ma lui c'è una bomba allora Nicola e Garconda sono in giù qui assieme quanto dura? Lo spirito No Lo spirito? Che cosa? Hai detto che è a tirido Di Goshu Come si chiama? Di Nagibo Quanto dura in che senso? Che non finiva più La missione di Nagibo No 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 Lo spirito volace Ah lo spirito Non ho mai preso L'ho preso una volta Sì ma non c'ho mai un cazzo di support Non c'ho mai Un cazzo di support 8 secondi C'ho in compenso Un support del cazzo Grazie Gakko Uh Airstone Bosco dietro Eh quello è un'altra cosa Però questa E' un po' Questa Riki ma cosa stai giocando? Matteo Ma nulla No ma sta Sta configurando il coso E' un oh Ma che 70 plus Ma che non c'è Ma che non c'è Ma che non c'è Ma che non c'è Stiamo aspettando loro Stiamo aspettando loro Io ci sono Devo fare una 2 non classificate Perché mi dice di giocare con eroi di Overwatch che non ho Sì il fatto è che io Che tenevo il liver quindi possiamo fare non classificate Che va in base che possiamo fare? Guarda a me mi è girato il ca... Ah vedetevi la La live che ho fatto ieri sera Che ho vinto la partita mi ha levato all'esperienza Ah a proposito domanda Domanda Cioè la live Quando la chiudi Ti rimane il video? Cioè no devi impostarlo Come faccio? Cioè nelle opzioni Però adesso sono in partita Veramente Riepilo i vostri No è nelle impostazioni Eeeh Devo rendarci aspettate Perché adesso non posso veramente Nico No non neanche te neanche Nico No 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 Sì, è giusto Ah, proviamo Il sito già E non Sì, è giusto Sì, è giusto Poi scrivere meglio Non necessitavo che il protettore Poi essere distrutto in persona Siamo distretta a ritenare Mori a un macchino Beh, siamo a tre livelli sopra Comunque quelli dei là non sanno giocare bene Guardi, va di da questo Eh, aspetta un secondo Anche è carino, però è difficile da essere giocato Dimmi il tesoro Beh, sì e no Che piatto è Dopo prima di partire, dimmi dove sta Vedi un po' la torretta Ok Merda Anche lui ci voleva Lo vado il papà come siete? quale vuol morire? vieni dietro 14 secondi è l'ultima mi da noia 3 secondi va bene dobbiamo ripiegare grazie mission è doppio doppio e nessuno lo sa la mia morte è passata vana certo che la nuova vestitura del tenente morale se gli fa venire un culo della madonna non so se avrete notato ma il culo di morale si è aumentato si ma io che ti mettevo il cuore ha fatto squat ha fatto squat eh si ritmi ti ho invitato aspetta ormai abbiamo finito no non vi aspettiamo andate a cagao andate a cagao intanto invitiamo abbiamo ancora due posti Nicola e Claudio e siamo è inutile è inutile che già teniamo inutile che pone green up sapete questo è il feo ti sento un rimbombo un eco pazzesco Nicola tira fuori la testa dal pentolone delle lasagne grande la testa è vero ma è vero è vero è vero è vero è vero ok vuoi vabbè vabbè ci vediamo per almeno commenta accetta l'amicizia la L'invito in gruppo Grande Ora vengo adat prendere Pura la burretta piena Vero? Bravo Dopo divino la cacanella fissi Non mi cambiamo di cosa Lui no, sincero Che cosa è bella Vi fanno 6.000, no? No, no Faccio io Faccio io, sì Sì, sì Sì, no Sentite, ma siete in un gruppo chat a parte o siete su? No, esatto, ma insieme Sì Ah, ok Come? Non lo scrivo da un'opera per me Allora, mi chiamata e tu metti la mi chiamata Comunque questa fotocamera le hai messo in tutto stato Sì 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 Sono al centro eccoci siamo live live siete live no, poi si fa ciao dove siete? c'è di him on the line è sempre in ritardo, ma è mai ritardo da e che fai? non sono online sono online come vuoi? grazie chi rimanda online ragazzi? sono tutti a su Twitch ah su Twitch ma vaffanculo troione di merda ma non dire così a cometa ma che cazzo si entra a cometa? ce l'avevo con quel coglione di rex che mi ha ucciso mi ero salvato fa in culo però chiss ma come potete fare dragon7 giusto? si dragon7 aspeta mi mando il link c'è già il link tuo come si chiama sul team smadonna dai ma no no Sì, è vero, è vero, tu spadova. Però c'è solo un po' di titolo. E lo stone. Tiro bene, non l'anchi di più. Ahahahah! Non l'ancho mi ha detto tre parole di una pazza. Marco, lascia perdere. Ah sì? Marco, non fare battute, Marco, non fare battute, per favore! No, ce l'ho a fare. Ma andata da un stream che io voglio fare. Il fascismo, vero, mi stai facendo la camera da me. Il fascismo, vero, mi stai facendo la camera da me. Ho detto mi faccio la camera da me. Non potete rilevitate. No. E' pensi che ci sono stati? No, ci siamo attrati. pronto pronto pro pronto 선�ansen stanno ha con vento rodi convertito ma la sacra of course comunque ti vedo anche su ti iscrivi anche su su twitch Marco ci sono almeno ti leggo più o meno e mi chiamo che Shea no Shea no non c'è su twitch però è sul mio canale che sta facendo ora siamo in troppi cavolo potevi vedere anche a mia live eh Robby visto che tanto sei cattivo eh ma io metto chi mi mette il link ora sto vedendo Matteo ma sei tra gli spettatori eh? si è tra gli spettatori però non è registrato perché non è registrato ma Tartan ha fatto una build bellissima ciao Robby ciao Robby ciao vi vedo ciao raga l'ho mandato l'ho mandato l'ho mandato l'ho mandato l'ho mandato senti come età mettiti tu davanti a Matteo ok ma 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 ora vedo uno che beve sono io ecco molto meglio molto meglio molto meglio andrò fuori dallo schermo molto meglio così dai ma giocate in due ciao si hai conti per la schiena uno sopra l'altro no eh uno sopra l'altro vabbè ma quando sono solo non penso ma che zozone io sono realista sono un medico sono un medico esatto sono un medico non vedo queste cose vedo solo le vagine che viaggiano eh infatti siamo in troppi e questo solo per un altro senti Don Costiglio Matteo vai via vai in palestra lascia la fumetta la perdiamo la perdiamo tranquillo ecco abbiamo aspettato tutto sto tempo e la perdete alla fine 27 minuti di partita 25 25 aspetta io ti dico la perdiamo Matteo togliti le dita dal naso ci sei arrivato a vedere le dita dal naso sì penso di sì solo ah un'altra domanda ma per togli un po' il ritardo no il ritardo mi sembra che cosa sono 30 secondi Nico non ricordo male 30 secondi diverso mi sembra che quello lì perché c'è anche la pubblicità che ti mette eh non lo puoi togliere no non puoi non puoi neanche come partner che puoi fare se non ricordo male anzi come partner te puoi mettere la pubblicità perché fare in modo tale che la gente guardi la pubblicità che che metti tra gli spezzoni ad esempio sei morto metti la pubblicità mentre stai per i suoi tepe soldi tepe soldi famosa la marca della birra ogni tanto così quindi il ritardo è obbligatorio sì è anche logico perché se no se ti vedono in streaming mentre fai le partite ti vedo vabbè ho capito un minimo ok ma 30 secondi mi sembra tanto eh vabbè ma boh quindi che si fa io dopo un po' sì vabbè quello è sicuro si è salvato per poco per quattro spettatori uno sono io gli altri tre chi sono puoi vederlo uno è scea uno siete ma non so se esce nulla perché ci dovrebbe un programmi o no 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 si vedono gli spettatori che sono collegati a twitch vediamo un po' cioè ma arriva come notifica sulle mail ma arriva quale? però non si vede nulla durante la live visto quando ti mettono ne so un follow o qualcosa ecco lì devi devi ancora settare alcune cose no come devo far per settarlo quello con l'estensione sì con l'estensione e anche che ho un sito che si chiama sempre il stream lab se non ricordo male poi te lo faccio mettere ma tanto adesso a te non ti serve ti serve piuttosto ok grazie a te che birra è? Una birra al limone Una birra al limone La birra al limone è tanta roba Una Radler Siamo partiti Siamo partiti Siamo partiti si è messo Let's go Let's go bitches L'abbiamo finito eh tra poco Si L'abbiamo finita adesso Allora usciamo Eh usciamo Dai lo stesso ragazzi Siamo in quattro Eh vabbè uguale dai Allora lascia glielo prendo Ma tanto glielo bannano gli altri Banna Banna Mayer Ah è roba Come faccio a mettere Come faccio a mettere Che mi salva il Il video Ah ecco giusto Pensavo tanto te lo fa cometa No il cometa sta Chi ti salva il video? Aspetta aspetta No che cazzo qua Ah ok Allora No 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 Non l'ho visto Era di là Infatti Dimmi Oh aspetta Devo andarci ancora a vedere Un momentino che ci sto guardando Non mi ricordo Perché nemmeno io Ah si C'hai un po' di latenza Vero? Si c'hai per forza Si 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 3 4 Ma te come sei sensuale con gli occhiali? Eh? 7 8 9 Come sei sensuale con gli occhiali? A 10 secondi di latenza Ah beh a 10 secondi pensavo peggio di latenza In realtà varia molto se ti mettono la pubblicità Se entri come nuove C'hai Le Oric Le Oric Che faccio? Prendo le Oric Non mi ricordo Ma mi conviene farla sul Drain Live Tutto sul Drain Tutto sul Drain Tutto sul Drain Oh Comunque togli i cromi a sto punto Si no dimmi se voi lo faccio io Toglierei i cromi? Toglierei E' meglio Si 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 Togli i cromi No no va bene va bene Ma non lo prendo qua Ma vedervelo se lo sai in po' Esatto Per tu Zadar Bene me lo prendo con quello No ma sta giocando Marco con voi Cosa vuoi che faccia? No non è Marco mi sa che Andrea Ah eh oddio Tritacarne Che dite? Allora prendi Prendi lui vai Tritacarne Ok ok Va bene Fatto comunque siamo a doppio tanto Garco Riesce a vedermi allora come salva il video? Eh aspetta un momento L'ho fatto la prima volta nella mia vita Poi mi sono dimenticato completamente Beh dammi un secondo Sì ma perché infatti quelle impostazioni Non è che sono molto intuitivi No non sono molto intuitivi Devi andare a cercare quello che devi fare Qual è il problema? Eh infatti lo stavo a cercare fino a più Ma non lo trovavo Lui Zeratul Come Zeratul? Non l'avevo preso Ah Livello 37 Bene bene Ce lo maniamo Ce lo maniamo No ma poi perché muore Perché è ancora quello silenzio Ehm 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 Ok Ok Però io ti starò vicino Il tempo Sì stai vicino Appena tu prendi un look Sì La radice fa si viene Ok Va bene va bene 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 Ma te ora che stream cerca di non bestemmiare Eh Ci proverò Al massimo E nemmeno i RUTTI Gli intratterrò assolutamente bestemmi I RUTTI sì I RUTTI sì Su intrattenimento Ah i RUTTI sì Le bestemmi no Ehm E' vero Esatto Dai la colpa a Stitches Ascolta ma Buonissimo Il primo talent che mi consigli con le orecchia Ehm 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 Il drenaggio ti ruba più video Voi lo direi Ehm 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 Sì Che c'è Marigaretto Sì Sì Quei chi Lo t'ho risa Sì B un corso carico fatto un po' di spazio vaffanculo e scopi di ma porca troia tre raggi tutti sbagliati pensi con la terza pensi con la terza non c'è non voglio farti body block vado io vado io aspetta preso si un po' grazie occhio ecco ok ora appena prendo ok tu zado cerco di questa demessimente ma porco giuda per poco si ho visto ho visto che lancia occhio ok 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 stiamo spondendo troppo come state messi mid? ci picchiate ci picchiate basta eh sì è un po' spericoletto aspetta che ne prendo uno di quelli che è il tu zada ma vara tu che si è spostato proprio nice occhio leo rica no no tranquillo 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 va bene va bene va bene va bene ci sta ci sta ci sta dai 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 che è questo dai 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 morte 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 buono ragazzi e vuoi? ma va è un ucciso con le pace ma te devi aggiustare la grafica con la laghetta con le abilità devo aggiustare? la grafica con la laghetta sulle abilità perché? non so e non è fatta non è messa bene i quadri dopo la sposta gli ultimi a destra e a sinistra non prendono quelle cose dove hanno fatti quello è un pochino complicato da ammetti e già come vanno giù comunque con le ore esatto sono mi amiamo e appare esatto lo distruggi con le ore è un pochino distruggi poi adesso quel talento compresa al 7 vado 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 eh raga sopra da quel coglione di zero facciamo il campetto sotto o no attaccalo che mentre si teletrasporta lo prendo è lì è lì che stupido è livello 37 lo prendi lo prendi bravissimo facciamo il campo arrivo eccomi ma groghi è morto no stavo guardando l'affare per Matteo che da una parte del tutorial c'è no? per mettere la roba adesso gli devo mandare anche a Matteo comunque con gli occhialini di Matteo sta benissimo piaccio? si bravissimo no sessi no non diciamo queste eresie per favore grazie a forse per le donne sarei sessi per me no grazie però comunque ti mando il link di questo video qua dai io sono si ti ho caro che razza di Allora, Nico, vogliamo farci una partita Tanto che loro ci fanno un oro Tanto noi c'è in due Minchia, che catena lunga che hai Che catena lunga Allora, ma tanto, comunque, non vi sembra un grazie Andiamo a fare il boss Il boss Ma in realtà farei più questi Farei più i campi, perché quello ci dà Sì, perché ci dà un bel conto È quello di vita, questo Sì, vado a fare Dovrà di te Sì, te fai lì Vai Ora facciamo il campetto qua Allora, stai già facendo Silvana Ciao 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 Andiamo di sopra Andiamo di sopra Oh Mi sono facendo fare tutto Oh, guarda come ho fatto Guarda come ho fatto No Oh Oh Shit Ma ce ne ho trovato, Gladio Ora non hanno più Come fare? Come tant'è Tant'è rinascito subito Molto anche l'alto Oh, la cosa è morta, 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 morta Che culo che ho avuto Ok Sopera rinascito, sopera rinascito, sopera rinascito Sopera rinascito Sopera rinascito Oh, entra più Bene No, come cazzo ho fatto la città Ma va a cagare Andiamo 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 È riuscito a trovarmelo, Gatto Sì, ti ho mandato il link Ti ho mandato il link? Sì, nella file di Youtube Perché io non posso più vederlo Ma te sì Perché quando lo setti Lo setta e basta E ti registra ogni volta che fai una trasmissione Oh, poi lo... Ecco le piani che arrivano Comunque le impostazioni E dove c'è video e canali C'è impostazione del tuo profilo E lo vedi Sì E poi devi mettere anche Nelle impostazioni Quando ci andrai Sì Un peta Ok, apro Va bene, va bene No Uno per quanto Va bene, va bene Dove c'è canali e video Banni il lettore e video Ci devi mettere l'offline Ricordatelo Non ho capito niente Allora, nelle impostazioni Canali e video Sì Lì dove c'è subito Quando appena entri C'è scritto Banni dell'offline Ok Ci devi mettere l'immagine Caricare l'immagine che c'è L'ho messa Ah, non te l'ho vista prima Allora No, no, per favore Via, via Vada via È arrivato Fancy Pensi Con la pens Sempre Pensi E' arrivato un fancy con la Pants E' arrivato un fancy 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 con la Pants Rikki Aaaaah, spaccamo questo Ma perchè sei rosa? Il tempio si apre in 10 secondi Ricordi quando mi sento tutto rosa e quello? No, ma siete in cinque Siete in cinque Ma no, non siamo di più Ma è possibile che non la prendi? Rikki, dai, via, dai, basta Essi Buona Quasi, quasi buona No, perchè hai ribaltato? Bello Come sta a fare? Puffa Qua ci vado off con una Va Io c'ho musica nelle orecchie Questa è la mia Questa è la mia Sì, stiamo arrivando Stiamo arrivando Questa è la mia Puffa Più Un punto Un punto Più Un punto Il tempo Muttin' Muttin' Un punto Stiamo arrivando E' schifo che fai Infatti è uno scherzo Ma porca pacca Dai dai dai, su lui su lui su lui Vabbè Dai 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 Ah buono qui Nice Fantastic Buono 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 Molto bene Molto bene Marco boia Via 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 Pony. Andiamo a fare il campo su. Guarda di chi va a fare il campo su, non trova cosa buona lì. No, non voglia. Non voglia. Non esce attraverso i templi. Guardiani, impedite a questi mortali di avvicinarsi. Guardi, guardi. Guardi, guardi. Guardi, guardi. E tu sei morto tra le altre cose. Guardi, guardi. Guardi, guardi. Guardi, guardi. Provato. Non lo so, per la vicina l'ho portato dentro. Porca puttana dai che è morto è morto è morto è morto è morto! No ma perché l'ha dato ucciso alla? Maledetto! No il... Minions le l'hanno dato! Minions! Varatook mi andate! Allora due sono dentro Attenti che dietro c'è quell'altro! E' sempre ogni volta con quella... Ora li prendo eh! Però lo prendi Robby! Nooooo! Che culo che ha avuto! Sì sì sì! Questo è vero amore! Crashare anche assieme il gioco! E' veramente segno di una... Attento! 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 Ma guarda che mi ha lagato! Mi ha lagato! Mi laga! Mi laga! Mi laga! Mi laga schifosamente! Mi laga schifosamente! Ma vaffanculo! Ma vaffanculo! Ma non posso morire perché mi laga! Ma zio cane! Ma non ho bestemmiato! Anche la libertà di bastegna! Ma perché mi sei disconnesso? Ma facevo il perfetto! Ma va a cagare! Gioco di merda! Non so! Non so! Eh lo so ma... Io già sono... Ho difficoltà a concentrarmi! Che cazzo ha preso diavolo? Che cazzo ha preso diavolo? Che cazzo ha preso diavolo? Eh sì eh! Veramente dei mongoplegici! T'asera ci butta male! Fa male male male! Fa male male male! Questa nuova è andata a FK! C'è... A sette... Raga... A tre minuti dall'inizio della partita adesso nuova da FK! Sì vabbè! Sì vabbè ma non è problema! Il potere dei miei templi si è prosciugato! Ma vaffanculo! 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 Via! Non tutti assieme! Sì, 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 vai su un ucchio Avete finito? Mi prendono nel culo o no? Eh, perché le pattute sullo stesso punto Buona, ucciso Eh, ma se l'algo non ci posso fare niente Dopo devo riavviare il gioco, no, se non è possibile No, per me è questa l'ultima, perché oggi mi sono veramente girati i coglioni Mi sono veramente girati il cazzo Ma vare tu, come sono molto accaduto due volte Una per colpa mia, una per colpa del bug Al dodicesimo abbiamo finito la partita, visto? Questa è uscita? Un alleato ha bisogno d'aiuto La magia dei miei tempi si affiavolisce Trovate qualcos'altro per cui combattere Scegli un talento No, no, facciamo... no, no, non me la rischio io, perché ogni tanto si spegne il pc Non vorrei farvi perdere tutti Non vorrei farvi perdere tutti No, facciamo una cosa Non come volete Come volete Che caspita Quante siete in 4 e 5 Siamo in 5 No, basta Beh, mando No, no, facciamo una classificata Perché a me ogni tanto mi si spegne il computer Se non mi faccio perdere tutto Ma quindi ci vi ho completo voi Eh, sì, vi ho colato con un 5 Oh, ma perché si usa stasciotto in game? Ma non va qua, non va qua, non va qua, non va qua, non va qua No, non va Eh, sì, ma adesso... ma adesso devo parlare con Claudio e gli altri Devo qua da intermediario Chi è che sta morendo? Chi è che sta morendo? La luce del sole risplende nei tempi Presto rifuggeranno nella mia gloria Altare infernale Tu fai tracer, allora tu non ti fanno mi dubito, ma... anzi nella chiara Il nemico mi sta attaccando il nucleo Ah, chi se ne frega, Fenix, partì Eh, ok, for... eh, forse... Loro... Qualcuno vuole fare il tank, per caso... Eh, è finito di... Basta Con questo ho finito io Con questo ho finito io L'oscurità vi ha divorato Mbp E' stato un rito Io vado Nico, ci vediamo a domani Ciao, ciao Ciao, ciao